Statuto del club dei cuori solitari. 1. Dobbiamo trovare che è solo al mondo. 2. Dobbiamo renderlo più felice che possiamo. 3. Alle riunioni dobbiamo fare merenda. Ciao sono Cinzia della libreria rinascita e vi presento una delle letture consigliate in un'estate. Il club dei cuori solitari di Ulf Stark edito da Iperborea. Thor scopre che molte persone non trovano mai nessuna lettera nella propria cassetta della posta e si rende conto che ci sono persone sole ma così sole da non avere nessuno con cui parlare. Quindi un pomeriggio insieme ai suoi amici fonda il club dei cuori solitari. Inizia a spedire inviti misteriosi, lettere d'amore false, organizza gite allo zoo e anche concerti improvvisati. Come andrà a finire? Leggetelo e scoprirete che si vivono fantastiche avventure aiutando gli altri. Un saluto a tutti!